ed ecco con un altro video io sono Issam e oggi vediamo un monopattino molto interessante sia dal punto di vista del prezzo che sono solamente 300 euro col coupon sconto che ti lascio come al solito nella descrizione del video ed è equipaggiato con doppio ammortizzatore semi idraulico sia dietro che davanti e ha un motore brushless a hub dietro con limite di velocità regolabile ma anche potenza regolabile con potenza massima da sbloccato di 750 watt ok vediamo adesso la velocità massima da bloccato quindi esattamente come arriva dalla fabbrica sono con l'acceleratore al massimo l'accelerazione molto graduale e arriviamo a 23 km all'ora col gps 25 con il tachimetro di bordo quindi c'è una incongruenza di 3-2 km all'ora il che non è tantissimo ma questo ovviamente è da bloccato adesso proviamolo da sbloccato adesso sono con l'acceleratore al massimo devo dire che per essere un monopattino così leggero piccolo ha potenza da vendere un'accelerazione niente male però una volta raggiunti i 25 km all'ora come puoi notare l'accelerazione molto graduale stiamo ancora accelerando siamo a 31 km all'ora con il gps 41 con il tachimetro di bordo 33 con il gps 41 col tachimetro di bordo quindi non è congruo con il gps 33 e la velocità massima con un peso di appena 19 chili e mezzo e soprattutto un'autonomia di circa 80 km di solito questo tipo di monopattini ha il motore davanti e il freno dietro mentre qua abbiamo il freno a tamburo davanti e dietro un potentissimo freno elettrico a frenata rigenerativa dietro ottimo anche il freno a tamburo che funziona in contemporanea al freno a motore rigenerativo che ricarica la batteria proviamo il doppio freno 1 2 3 ok arresto immediato molto buono e devo dire scivola pochissimo e questo grazie sia al freno a tamburo ma anche il freno a motore che funzionano contemporaneamente quando premi la leva del freno devo dire che la frenata rigenerativa di questo monopattino è molto sorprendente per essere diciamo di questo peso è molto simile per esempio ai nine bot ma la frenata generativa pazzesca e siamo adesso a 36 38 km all'ora vado solo con la frenata rigenerativa 1 2 3 si ferma totalmente in discesa naturalmente rallenta poi si ferma totalmente con il mio peso di 80 kg quindi è molto buona la frenata rigenerativa il freno a tamburo tra l'altro non avendo le pastiglie è quasi infinito quindi non hai da cambiare le pastiglie dopo un po non solo abbiamo anche una doppia regolazione che si fa molto facilmente tramite questo dado quindi ogni volta che si consuma basta stringere il dado da qui o anche da qui direttamente sulla leva del freno tra l'altro la gestione del freno è molto particolare infatti qui abbiamo il freno a motore soltanto quindi se vuoi rallentare puoi utilizzare questo qua invece il freno è doppio ovvero se premi leggermente la leva del freno il monopattino inizia a frenare con il motore con una frenata generativa eventualmente se premi di più entra in azione il freno a tamburo per avere una frenata più decisa tra l'altro qua sulla leva del freno come puoi notare abbiamo le frecce direzionali che sono installate all'interno delle maniglie del manubrio che sono abbastanza visibili di notte sicuramente meno visibili di giorno visto che si nascondono proprio all'interno del manubrio una cosa che mi è piaciuta tantissimo e la gestione delle frecce che secondo me dovrebbe essere così su tutti i monopattini che hanno le frecce direzionali ovvero se premi la freccia sinistra come puoi notare inizia a segnalare sia con una luce sul display ma abbiamo anche un avviso sonoro non solo eventualmente se dovessi dimenticarla dopo un po la freccia si spegne in automatico sulla parte sinistra del manubrio integrato nel freno abbiamo un campanellino abbastanza audibile va benissimo per una dimensione e potenza di un monopattino del genere sulla parte a destra abbiamo la leva dell'acceleratore che funziona sia da fermo o anche con una spinta e questo si può cambiare a piacere tramite l'applicazione che adesso andremo a vedere accanto all'acceleratore abbiamo questa clip che serve ad agganciare il manubrio una volta chiuso il manubrio ha la doppia sicura infatti questa è la prima la tiri su e sblocchi ma anche se sbloccassi così in questo modo come puoi notare abbiamo la seconda sicura che evita di sbloccare il manubrio per sicurezza una volta tirata la leva di più come puoi notare possiamo sbloccare il manubrio e quindi agganciare la clip sul parafango posteriore e quindi sollevare e trasportare il monopattino facilmente e sicuramente avrai notato questo borsino che arriva in dotazione al monopattino incluso nei 300 euro all'interno troverai il caricabatterie da 2 ampere che riesce a ricaricare la batteria interna da 18 ampere ora 48 volt quindi 866 862 adesso non mi ricordo quindi la batteria è più che sufficiente per spingere questo motore da 750 watt e 18 ampere ora diviso 2 sono circa 8 9 ore per ricaricare la batteria da zero il connettore come puoi notare è un connettore xlr femmina invece quello sul monopattino e maschio cosa della quale ho parlato in varie recensioni e di altri monopattini che hanno questo sistema infatti devi stare molto attento a chiudere sempre il coperchio del connettore ed evitare che qualcosa di metallico vada a toccare i due pin causando cortocircuito ovviamente questo monopattino è protetto da cortocircuito la batteria ha tutte le altre protezioni sia la protezione per la sovratensione sovracorrente sotto scarica ma non solo anche la protezione termica all'interno della borsa abbiamo anche uno strumento multibrugola che ti serve per montare la parte superiore del manubrio che arriva smontata dalla fabbrica ma è molto facile montarlo sono solamente sei viti da avvitare qui non solo ti danno anche questo tubo adattatore per gonfiare le gomme eventualmente se la tua pompa non riesce a raggiungere le valvole valvole che secondo me sono comunque facilmente raggiungibili sia davanti che dietro non solo ti danno pure una camera d'aria di ricambio eventualmente se dovessi forare le gomme sono da 10 pollici e devo dire che rispetto ad altri monopattini simili a una larghezza è una forma ottima per la strada quindi per andare in città il display degli scooter i10 max è un display lcd molto visibile sotto i diretti raggi del sole abbiamo solamente un pulsante che gestisce tutto sia l'accensione e spegnimento il cambio del limite di velocità infatti in questo momento siamo con il limite di velocità pedonale di 6 km all'ora cliccando lo due volte passiamo alla velocità eco che raggiunge 10 km all'ora ancora la velocità drive a 15 km all'ora e abbiamo la velocità massima di 25 km all'ora da bloccato come arriva dalla fabbrica come puoi notare è entrato in azione il cruise control che si può disattivare eventualmente premendo un'altra volta la leva del freno o dell'acceleratore per sbloccare il monopattino basta premere sulla leva del freno tenerla premuta e cliccare 5 volte sul pulsante di accensione spegnimento 1 2 3 4 5 e una volta sbloccato raggiungerebbe 45 km all'ora con il tachimetro di bordo perché la velocità reale misurata col gps è di 32 km all'ora ok adesso proviamolo nella solita salita sono con l'acceleratore al massimo il monopattino è sbloccato quindi in teoria la velocità massima non in salita dovrebbe essere 32 adesso siamo a 21 19 km all'ora come puoi notare adesso ho tolto totalmente la mia mano dal dall'acceleratore perché abbiamo anche il cruise control e siamo a 16 17 km all'ora quindi direi che questo motore da 750 watt di potenza funziona funziona molto bene ma funziona più che altro per la frenata e non diciamo per l'accelerazione il che va benissimo anche perché abbiamo davanti il freno a tamburo e dietro soltanto il freno a motore che funziona ripeto molto bene molto buono anche che il monopattino abbia delle protezioni inclusa anche quella della temperatura che abbassa la velocità la potenza erogata al motore eventualmente se si dovesse surriscaldare come in questo momento si è surriscaldato il motore dopo la terza salita con 80 kg sopra si è molto buono d'altra parte oggi ci sono 10 gradi soltanto e secondo me non dovrebbe scaldarsi così in fretta dopo la terza salita quindi non è proprio un monopattino per le salite d'altra parte è molto conveniente sia per quello che costa ma anche per quanto pesa lo stesso pulsante si usa anche per accendere e spegnere la luce davanti e dietro la luce a led davanti e niente male ha anche un catarifrangente la cosa che vi è piaciuta è che si può direzionare in su e in giù quindi si può regolare invece la luce a led dietro come puoi notare è inclinata un pochino in su quindi in direzione delle macchine molto visibile sia di giorno che di notte e una volta premuta la leva del freno lampeggia per segnalare la frenata come puoi notare abbiamo anche un porta targa eventualmente se dovesse servire una targa per guidare i monopattini nel futuro nella scatola abbiamo il cartoncino per contattare l'assistenza eventualmente il manuale di istruzioni in tutte le lingue compresa la lingua italiana che è molto chiaro abbiamo anche tutte le figure come devi montarlo come devi utilizzarlo eccetera eccetera non solo una particolarità di questo monopattino che ti danno il foglietto della dichiarazione di conformità di questo monopattino l'applicazione si chiama e scooter e quello che mi è piaciuto tanto è il collegamento molto rapido tra cellulare e monopattino quello che invece non mi è piaciuto è il sistema di blocco e sblocco infatti come puoi notare posso bloccare il monopattino così nessuno lo può utilizzare per esempio se lo parcheggio da qualche parte per un po di tempo ma se qualcuno scarica l'applicazione e scooter l'applicazione non prevedendo nessuna password se qualcuno vuole installa l'applicazione e clicca su sblocca e blocca al monopattino facilmente quindi la funzione di sblocco non è utile invece le altre opzioni nelle impostazioni sono molto utili per esempio abbiamo la possibilità di attivare o disattivare il cruise control che entra in azione dopo 30 secondi che sta accelerando alla stessa maniera quindi se ti dà fastidio con sta funzione la puoi disattivare molto comodo il cruise control ma è anche molto comodo il fatto di poterlo disattivare eventualmente se volessi puoi anche decidere se il monopattino parte direttamente da zero basta accelerare ma se vuoi che il monopattino parta soltanto dopo aver accelerato e dato una spinta col piede allora dovrai selezionare il non zero start questo monopattino ha anche una funzione di diagnosi diagnostica eventualmente se ci sono dei problemi e siccome sul display del monopattino ti dà solamente i chilometri che hai fatto nell'ultimo viaggio in teoria nell'applicazione dovresti avere i chilometri totali che hai fatto col monopattino d'altra parte come puoi notare appena spento e riacceso il monopattino l'applicazione si è collegata e si è azzerato il tutto quindi il monopattino non prevede i chilometri totali che hai fatto abbiamo il contachilometri ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare l'applicazione come navigatore dove puoi inserire per esempio la destinazione e l'applicazione ti guida tramite google maps questa è la velocità tramite l'applicazione da fermo che come puoi notare sta dando 45 km all'ora esattamente come il tachimetro di bordo adesso sto viaggiando con il monopattino come puoi notare il tachimetro di bordo rispetto alla velocità misurata dall'applicazione che in teoria dovrebbe misurare la velocità tramite la ruota è identica al tachimetro di bordo adesso se parto e vado a vedere il gps se veramente cosa dice siamo a 31 km all'ora quindi la velocità misurata tramite l'applicazione non è affidabile perché prende la sua velocità dalla velocità del tachimetro di bordo certamente su questo canale quando testiamo dei monopattini li testiamo al limite quindi è giusto riportare il problema del surriscaldamento quando si sblocca il monopattino e si porta al suo limite anche in salita ad altra parte questo surriscaldamento giustamente non capita con il monopattino bloccato in conclusione dopo le varie prove questo monopattino prende 4 stelle e mezzo su 5 e questo perché il prezzo è davvero molto buono per quello che offre questo monopattino non è un monopattino quindi per le salite ma sicuramente molto buono per l'autonomia che davvero incredibile per quello che costa e in confronto a monopattini simili come al solito ti lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video se fossi interessato se hai delle domande lasciate giù uno spazio commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima